Il ricordo più bello che ho di Ostia sono le bombe, ma Riccardo dice che non si chiamano bombe, si chiamano graffe, lo so, però io sono forestiera, sono di fuori, non so di Ostia, l'ho chiamata e bombe, erroneamente qualcuno ha capito qualcos'altro parlando di bombe, insomma si è creato un po' di scompiglio, ho detto questo, l'abbiamo portato a casa, cose che si mangiano molto buone.